Archeologi e studiosi da tutto il mondo si sono riuniti nella città di Gela per il terzo congresso internazionale sugli studi della ceramica. La manifestazione, che affronterà il tema della convivialità, è promosso dal Mediterranean International Center of Studies e patrocinato tra gli altri dal Museo archeologico regionale di Gela e dal Comune. La città, che può vantare un patrimonio artistico dal valore invidiabile, diverrà così fino al 19 settembre capitale dell'archeologia. Io devo ringraziare gli organizzatori per questo congresso internazionale perché finalmente si sono accesi riflettori su questo territorio. Perché quando si parla di ceramica, questo territorio di Gela non è secondo a nessuno. Ma quello che manca al territorio non è la cultura propriamente detta che già c'è, è la promozione, è la cultura dell'accoglienza. Dico che sicuramente è un evento degno di nota. La terza conferenza internazionale sulla ceramica che vede presenti tra i massimi esperti a livello mondiale in questo campo non può che farci piacere e fare onore alla nostra città. Io sono venuta da cinque anni fa la prima volta a Gela e ho trovato una Gela da scoprire. Le mure, l'emporio, l'acropoli, una cultura incredibile, meravigliosa.